Albano, guerra tra Loredana e Romina, il gesto della prima moglie fa infuriare l'Alecciso. Non è finito di certo qui il triangolo amoroso di Albano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power. Per il suo compleanno, le due donne hanno. Carrisi e la Power sono infatti stati sposati per molti anni, e hanno dato alla luce dei splendidi figli. I due hanno formato per un lungo periodo, una splendida ed inimitabile coppia amata da milioni di italiani. In seguito, c'è stata però la separazione, Albano e Romina non si sono più visti e, intanto, lui si è innamorato perdutamente di Loredana Lecciso. Nonostante siano trascorsi molti anni, Albano e Romina si sono oggi riappacificati e hanno anche deciso di riprendere il loro duo artistico esattamente dove l'avevano lasciato. Ma non è tutto, i due ex sono oggi davvero in ottimi rapporti. Questa è stata una chiara e attenta dimostrazione. E, il compleanno di Albano, gli auguri speciali di Loredana e Romina Sui loro profili Instagram ufficiali, in occasione dei compleanno del noto cantante Albano, Loredana Lecciso e Romina Power non ci hanno pensato due volte e hanno scritto dei meravigliosi auguri all'uomo che, in tempi diversi, ha fatto battere il cuore ad entrambi. Ha infatti iniziato la Lecciso, che ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme al suo adorabile compagno, i due si sono appena svegliati e per questo, lei indossa un abito da notte e lui una vestaglia. Il primo scatto di una giornata speciale. Auguri alva ha infatti scritto Loredana come didascalia del post. A susseguire il post ci ha pensato poi Romina Power, la donna infatti subito dopo pubblicato due scatti dedicati al suo ex marito. Il primo ritrae Albano che soffia le candeline della torta, e il secondo rappresenta l'ormai lontano periodo in cui i due si amavano ed erano una coppia davvero affiatata. Infiniti auguri Albano, ha poi scritto Romina, gli anni passano. Ma chi li conta? Insomma, pare proprio che il loro triangolo amoroso non abbia mai smesso di circolare, Albano è sempre apprezzato moltissimo sia dalla sua attuale compagna, di cui è sicuramente innamorato, sia dalla sua ex moglie. I fans non hanno così perso l'occasione di commentare entrambi i post, e di scrivere i loro più speciali auguri al cantante.